La stagione del Pescara ha griffato Colombo, esordio in campionato il 4 settembre allo stadio adiatico Cornacchia contro il temibilissimo Avellino, un club che punta dichiaratamente al ritorno in serie cadetta. Salterà il match Lec Saloi, bloccato da un brutto infortunio al collaterale. In compenso giocherà Ianes, ceduto agli Irpini pochissimi giorni fa. Subito dopo trasferta laziale sul campo del più abbordabile Latina, ma alla terza Delfino, atteso in Abruzzo da un'altra seria candidata all'altissima classifica, il retrocesso Crotone. Il campionato propinerà al Delfino un'ennesima gita in terra laziale, stavolta sul campo della Viterbese. Sarà la prima di due trasferte consecutive, alla quinta Biancazzurri, ospiti del Foggia dell'Ex Dursi. Il big match col Catanzaro di Enzo Vivarini, previsto invece alla quindicesima giornata. L'andata si disputerà in Abruzzo. Il Delfino nel frattempo punta a rinforzarsi, ingaggiando il Vicentino Brosco. Contratto di un anno, con opzione per il secondo. Chi lascia la C è il Teramo.